Ben trovati, in questo tutorial su Photoshop 2019 che però potete seguire anche con altre versioni purché non troppo vecchie cercheremo di imparare a realizzare una scritta che dia l'impressione di essere incisa su una superficie questa superficie poi può essere di pietra, di metallo o di legno, questo non cambia il tipo di tecnica che utilizzeremo quindi potete ripetere questo tutorial anche su immagini leggermente diverse da quelle che io invece qui sto utilizzando voglio sottolineare prima di iniziare che io tengo anche un corso nella mia sede a Barletta dove ho un centro di formazione autorizzato con rilascio anche di certificazione Adobe ovviamente previo superamento dell'esame finale chi quindi è nei paraggi di Barletta, Barletta o in Pugno in generale se vuole valutare l'opportunità di approfondire l'utilizzo di Photoshop molto oltre quello che facciamo in questi tutorial può pensare di contattarmi e quindi capire qualcosa in più sul mio corso e decidere se vuole iscriversi, il corso in realtà si può seguire non solo in aula a Barletta con la mia presenza ma anche a distanza seguendo delle video lezioni nel caso in cui non foste direttamente nei paraggi chilometrici qui intorno a Barletta trovate il link in descrizione se volete qualche informazione in più andiamo avanti, ora per realizzare questo effetto ho utilizzato tre immagini vi faccio vedere come sono andato a cercarle su internet in pratica su Google Immagini ho cercato Texture Metal oppure Texture Stone a seconda che si voglia fare l'esercizio su un effetto di tipo pietra piuttosto che su un effetto di tipo metallo quindi poi sceglietevi un'immagine tra queste cercate di prenderne una ad alta risoluzione e non una bassa risoluzione come quest'altra poi ho cercato anche Texture Cracks perché mi serviva trovare delle crepe da aggiungere alla nostra scritta per dare un effetto più realistico ed infine ho cercato anche il logo in questo caso del gruppo Rock Metallica ma in realtà potevamo cercare anche un'altra scritta o realizzarla direttamente noi che è la scritta che poi diventerà quella incisa sulla pietra queste immagini ce le ho salvate in questa cartella e quindi le utilizzeremo man mano durante il tutorial non vi ho messo le immagini in descrizione innanzitutto perché non ne ho la proprietà come diritto d'autore quindi è più opportuno che voi cerchiate le vostre inoltre è importante imparare a rifare lo stesso tipo di tutorial lo stesso tipo di esercizio su varie immagini e non soltanto su quelle che vi fornisco io perché la risoluzione dell'immagine, la presenza di luci, mezzi, toni e ombre cambia un po' le cose e quindi bisogna sapere un po' smanettare allora cominciamo quindi chiudendo l'esercizio già fatto e rifacendolo da zero quindi dalla cartella che vi ho mostrato prima comincio prendendo la prima la texture pietra e trascinandola all'interno di photoshop essa ovviamente si aprirà e mi verrà mostrata nella sua diciamo versione pulita questo file che ho preso se tengo premuto qui sotto è piuttosto grande ad una risoluzione piuttosto alta ovviamente alcune delle impostazioni poi ve lo dirò anche durante il tutorial che vado ad utilizzare se utilizzate un'immagine molto più piccola o molto più grande saranno da ricalibrare leggermente diversamente ma questo è anche buono perché così vi esercitiate più opportunamente bene quindi una volta inserita l'immagine in photoshop dobbiamo cercare di sovrapporgli la scritta che vogliamo utilizzare in realtà l'immagine della scritta che ho preso non è importante che risoluzione ha e quante grande perché noi la utilizzeremo soltanto come una formina, come una fustella per poi realizzare il nostro livello di photoshop quindi la trasciniamo sovrapponendola alla texture che avevamo già inserito ci accorgiamo che ha una risoluzione decisamente più bassa ma ripeto questo non è importante essendo adesso attiva la trasformazione libera come accade ogni volta che inserite un nuovo livello al di sopra di quello già presente noi andiamo ora sugli angoli e cerchiamo di ridimensionarla io sto usando photoshop 2019 e quindi è sufficiente che mentre prendo l'angolo tenga premuto sulla tastiera soltanto il tasto alt in maniera tale da poter ingrandire in maniera speculare cioè sia in un verso che nell'altro chi utilizza photoshop 2018 o una versione precedente per mantenere le proporzioni dell'immagine e quindi non sproporzionarla dovrà tenere premuto non solo il tasto alt ma contestualmente anche il tasto shift quello della singola lettera maiuscola in maniera tale da ottenere questo risultato quindi c'è questa leggera differenza tra le versioni antecedenti alla 2019 e quelle dalla 2019 in poi quindi andiamo ad ingrandire un bel po' l'immagine fino a trovare diciamo la dimensione che secondo noi è opportuna all'interno della texture di pietra, di ferro, di metallo eccetera eccetera alla fine premiamo questa spunta qui sopra per confermare l'inserimento ripeto in realtà questo livello tra un istante lo cancelleremo perché ci serve solo per ricavare la forma della scritta che vogliamo utilizzare pertanto dall'alto negli strumenti di photoshop nella barra di strumenti di photoshop contiamo 4 pulsanti clicchiamo il tasto destro e scegliamo lo strumento bacchetta magica che è uno strumento che sicuramente già conoscete perché è uno dei più elementari uno dei primi che si va a studiare questo strumento ha alcune impostazioni e alcune opzioni che appaiono appunto sulla barra delle opzioni nel momento che viene selezionato mi serve che venga utilizzato con la sua modalità normale che è nuova selezione quindi attenzione che sia premuto questo tasto in più deve essere impostato su punto campione in maniera tale che il singolo punto che vado a cliccare venga campionato come colore singolo senza fare una media dei colori che stanno intorno la tolleranza la impostiamo ad una media altezza diciamo quindi a 50 e poi è molto importante che togliamo la spunta da contigui vi spiego perché se io vado a fare un clic su una lettera della scritta con contigui attiva si va a selezionare solo quella scritta ora rimuovo questa selezione cliccando selezione deseleziona lo potrei fare anche da control d sulla tastiera se invece tolgo contigui e clicco la stessa lettera si selezionano tutte le aree dello stesso colore all'interno di quel singolo livello attenzione non abbiamo nemmeno la spunta su campiona da tutti i livelli altrimenti questo non contigui andrebbe poi a sconfinare anche sul livello sottostante quindi ci va bene che non sia il campione esteso a tutti i livelli fatto questo in realtà il nostro livello lo possiamo anche tranquillamente cancellare questo livello della scritta tenendolo selezionato è selezionato quando lo vedete un po' più chiaro quindi eventualmente cliccatelo e cliccando il cestino qui sotto rispondiamo di sì rimane il livello della pietra ma con la formina della scritta metallica attiva a questo punto noi dobbiamo creare un nuovo livello con dentro un riempimento che può essere o a tinta unita oppure a sfumatura in questo caso io preferisco a sfumatura ma si potrebbe ottenere lo stesso risultato anche con una tinta unita sul grigio diciamo un po' scuro ecco andiamo a cliccare quindi questo tasto qui sotto che è quello che ci permette di creare vari tipi di nuovi livelli e scegliamo un nuovo livello di tipo sfumatura ma ripeto si potrebbe anche fare lo stesso esercizio leggermente diverso con tinta unita una volta scelto sfumatura vi appare questa finestrella dalla quale cliccate questo triangolino e scegliete la terza opzione la terza opzione dovrebbe essere per tutti noi quella che va da nero a bianco una volta cliccata poi cliccate anche direttamente qui dentro in maniera tale che appaia la finestra dell'editore di sfumatura eccola editore viene da edit no che in inglese vuol dire modificare quindi che ci permetterà di modificare la sfumatura stessa io voglio utilizzare dei colori diversi dal nero e dal bianco ma sempre all'interno della scala dei grigi quindi vado a cliccare inizialmente su questa casetta qui sotto su questo campione di colore e poi clicco dentro la vaschetta che indica l'utilizzo del colore nero in questo momento e vado ad impostare come colore da utilizzare un colore che abbia la saturazione pari a 0 e la brightness la luminosità pari a facciamo 65 questo vuol dire che viene un grigio abbastanza chiaro no perché valore 0 è nero valore massimo diciamo 100 è il bianco quindi 65 è un grigio al di sopra del mezzotono diciamo così del grigio 50% e diamo ok abbiamo cambiato il primo colore va cambiato anche il secondo con precisione selezioniamo quest'altro campione colore riclicchiamo nella vaschettina e mettiamo sempre saturazione 0 questa volta la brightness la impostiamo molto bassa quindi molto tendente al nero facciamo 25 in realtà potremmo fare anche un po' di meno facciamo 20 quindi un grigio decisamente più scuro clicchiamo ok clicchiamo ancora ok e ora attenzione noi abbiamo una sfumatura che va da grigio chiaro a grigio scuro nella forma della scritta metallica questo perché? perché quando abbiamo creato il nuovo livello di sfumatura e c'era attiva la selezione con la forma della scritta in realtà si è creata una maschera con la forma della scritta stessa ora qui si nota poco ma tra poco andiamo ad ingrandire queste miniature in maniera tale che si veda meglio continuiamo prima qui dentro è importante per me che la sfumatura abbia una direzione verticale quindi qui se non è già impostato impostate 90 gradi mentre il mio desiderio è che sopra si abbia il grigio chiaro e sotto il grigio scuro se anche a voi è capitato che la cosa è venuta al contrario come per me allora spuntate inverti se invece avevate già questa direzione cioè grigio chiaro sopra e grigio scuro sotto non fate inverti lasciate così come quello che invece voglio cambiare è la scala perché nonostante noi vediamo la sfumatura solo all'interno della scritta in realtà in photoshop quando create un nuovo livello la sfumatura parte da sopra e finisce sotto ovviamente questo ammesso di aver utilizzato l'angolo a 90 gradi e lo stile lineare perché altrimenti ci possono essere delle impostazioni differenti ecco io invece vorrei che la sfumatura si esaurisse in una minima parte dell'immagine che può essere pari ecco per esempio proviamo al 60% come vedete la parte di grigio scuro è molto aumentata rispetto a quando eravamo al 100% questo perché? perché prima il grigio scuro iniziava la transizione iniziava a metà dell'immagine e finiva qui sotto ora che io ci metto 60% la transizione inizia sempre a metà ma finisce al 60% diciamo cioè è ristretta all'interno dell'immagine la scala della sfumatura è ristretta e questo mi permette di avere una sfumatura appunto più interna alla scritta possiamo anche fare 50% probabilmente a questo punto potete cliccare su ok ora che avete questo tipo di effetto sfumato vi faccio vedere quello che dicevo prima cioè che il motivo per cui la sfumatura non si vede dappertutto è perché c'è questa maschera la maschera è molto piccola e non si nota ma se venite su questo tastino devo un attimino spostarmi dentro altrimenti non lo vedete nella registrazione vi esce questo menu che vi permette di scegliere tra le varie cose le opzioni pannello ora non riesco proprio a mostrarvelo perché mi esce fuori schermo però io vado a cliccare opzioni pannello è una delle ultime scritte sicuramente cliccando lo riuscirete a vedere una volta fatto opzioni pannello vi appare questa finestra dove potete scegliere la miniatura delle icone dei livelli la più grande che trovate in questa maniera è molto maggiormente visibile il fatto che io vi dicevo e cioè che la maschera di livello che si è automaticamente creata quando abbiamo creato il livello di sfumatura e c'era attiva una selezione a forma di scritta è venuta con la forma della scritta stessa ed è per questo che vediamo la sfumatura soltanto all'interno della scritta se voglio un attimino vedere come sarebbe stato il livello di sfumatura senza la maschera mi basta cliccare nella maschera tenendo shift premuto sulla tastiera questo disattiva la maschera e in realtà quello che voi avete fatto è questo cioè come vi dicevo una sfumatura che in realtà prende solo una fascia centrale pari al 50% del nostro livello e che va dal grigio chiaro al grigio scuro ovviamente a noi adesso serve riattivare la maschera e quindi di nuovo con shift premuto sulla tastiera vado a cliccare all'interno della maschera stessa in maniera tale che si riattivi e che mi faccia nuovamente vedere la fustella che dicevamo prima la formina a forma di scritta perfetto, ora con questo livello dobbiamo cercare di ottenere un effetto di sovrapposizione rispetto al livello sottostante quello della texture di pietra scura in maniera tale che sembri un po' fuso appunto tanto è vero che si chiamano metodi di fusione e sono questi con il metodo normale noi l'unica cosa che possiamo fare è andare a diminuire l'opacità però ecco non è che proprio si ottenga un bel effetto quindi la riporto al 100% mentre se cliccate questo triangolino potete ottenere dei buoni risultati sia con il metodo moltiplica sia con il metodo colore più scuro ma qui avremmo dovuto però utilizzare un grigio più scuro come grigio iniziale sia con il metodo sovrapponi sia con il metodo luce soffusa quindi direi con i grigi che abbiamo utilizzato è da scegliere tra moltiplica sovrapponi e luce soffusa che questi tre metodi di fusione hanno in comune una cosa cioè nei colori più scuri quindi nel nostro caso nel grigio più scuro nel sovrapporsi all'immagine sottostante la vanno a scurire poi sovrapponi e luce soffusa rispetto a moltiplica hanno una caratteristica in più cioè quella che invece dove il grigio è più chiaro li schiariscono quindi scegliete l'effetto che vi interessa maggiormente tra sovrapponi, luce soffusa e moltiplica io inizialmente scelgo moltiplica ma in realtà poi si potrà facilmente cambiare anche dopo quindi non è poi così importante la scelta che facciamo adesso e quindi già abbiamo un effetto maggiormente fuso diciamo così dell'immagine e del testo rispetto all'immagine dello sfondo se la voglio un po' ingrandire prendo qui la lente di ingrandimento la imposto sul più e faccio dei singoli click per avvicinarmi un po' si vede come traspaiono diciamo così le crepe e la trama della pietra attraverso la nostra scritta è ovvio molti di voi sapranno che si può ottenere lo zoom dell'immagine anche non utilizzando la lente di ingrandimento ma semplicemente premendo alt sulla tastiera e usando la rotellina del mouse soltanto che in questo tutorial che magari viene visto anche da qualcuno che non conosce questi comandi voglio spiegare la maniera più elementare e semplice per utilizzarli quindi ora per esempio se voglio rimpicciolire anziché usare alta e rotella prendo il meno visto che ho la lente di ingrandimento faccio un click e si rimpicciolisce un po' perfetto ora vogliamo aggiungere uno stile di livello che è un altro genere di effetto a questa scritta per dare l'impressione che sia scavata se venite tenendo selezionato il livello e quindi attenzione a non essere sul livello di sfondo ma ad essere sul livello della scritta che si vede che è più chiaro se venite a cliccare qui dove dice FX vi appare un piccolo menu ve lo faccio vedere meglio e in questo menu potete scegliere una serie di stili di livello uno di questi si chiama smusso ed effetto rilievo lo clicchiamo si apre una finestrella all'interno di questa finestrella possiamo impostare delle cose quindi come vedete è sia selezionato sia spuntato smusso e rilievo noi possiamo scegliere di avere uno smusso esterno che quindi va fuori dalla scritta oppure interno è chiaro che se la scritta deve sembrare incisa è meglio che lo smusso sia interno e ora andremo a cambiare questi valori attenzione che le impostazioni che io darò sono molto legate alla dimensione in pixel della mia immagine quindi può essere che a voi le dimensioni che io scrivo non vadano bene e che dobbiate fare qualche variazione in più o in meno se l'immagine è più grande oppure se è più piccola io ci metto una profondità pari al 150% e quindi già vedete come le cose cambiano una dimensione dello smusso che ripeto è uno smusso interno con tecnica arrotondata una dimensione pari a 20 pixel quindi man mano che lo faccio come vedete accade questo forse 20 è un po' troppo proviamo a fare 15 e in più vado anche a dirgli che la direzione non deve essere su altrimenti dà l'impressione di essere sollevata la scritta ma deve essere giù perché dia l'impressione di essere incisa devo anche cambiare la direzione della luce qui dove dice ombreggiatura angolo che in questo momento è impostata in questa posizione il valore dell'angolo cambia la rotazione della luce mentre il valore dell'altitudine simula la posizione del sole se è quindi basso sarà all'alba oppure al tramonto se è alto è tipo mezzogiorno io ci imposto un valore pari a 130 come angolo e invece come altitudine vediamo un po' se proviamo un po' ad alzarla proviamo a metterci 50 e così penso che così possa anche andare bene forse devo diminuire un po' la profondità proviamo 120 o riportiamolo forse al 100 e attenuiamo anche un po' la dimensione dello smusso perfetto fatta questa cosa possiamo andare qui ci metto 12 possiamo andare ad aggiungere un ulteriore effetto che vada un po' ad accentuare questo tipo di effetto scolpito metteremo anche un'ombra interna quindi attenzione non cliccate la spunta cliccate proprio sulla parola ombra interna la spunta si mette da sé perché se non cliccate sulla parola non vi appare il pannello dell'ombra interna ora è importante che ci sia la spunta su usa luce globale perché questo ha copiato automaticamente l'angolo dello smusso anche qui quindi non cambiate questo perché è la stessa luce che avete scelto sullo smusso poi voi magari avete scelto un'angolazione diversa dalla mia e mi sta benissimo l'importante è che ora l'angolazione della nostra ombra sia la stessa l'effetto del metodo di fusione lo lasciamo su moltiplica il colore dell'ombra la lasciamo su nero aumentiamo però l'opacità ad 80% perché l'ombra sia un po' più evidente e poi avevamo impostato lo smusso a 12 pixel di dimensione gli stessi valori li andiamo a mettere sia alla distanza sia alla dimensione invece riduci lo lasciamo a zero se tolgo e metto la spunta da ombra potete vedere come l'ombra va ad accentuare quell'effetto scolpito che già ci veniva dato dallo smusso e rilievo quindi ora andiamo a cliccare un bel ok e otteniamo che al nostro livello sono stati aggiunti come un grappolo i due effetti che possiamo ancora sia disattivare con questo occhiettino sia modificare con un doppio clic sull'uno oppure sull'altro si possono anche disattivare entrambi in questa maniera dobbiamo adesso creare un effetto un po' più realistico aggiungendo delle crepe intanto qui voglio oltre ad aver utilizzato oltre a provare a cambiare il metodo di fusione dopo aver aggiunto gli effetti voglio anche provare a cambiare un po' l'opacità ecco vi ricordate che prima avevamo detto che potevano andare bene anche sovrapponi piuttosto che luce soffusa ecco magari prima potevano sembrare troppo leggeri rispetto a moltiplica invece ora che abbiamo aggiunto quegli effetti magari vi danno un risultato che vi piace di più quindi ecco vi dicevo questa scelta del metodo di fusione può essere cambiata più volte durante il nostro esercizio in base alla vostra preferenza io continuo per adesso a lasciare moltiplica e magari provo a renderlo un po' meno invadente andando a diminuire un po' l'opacità e quindi come vedete recuperando nelle parti più scure un po' della trama di quello che sta sotto però ecco sentitevi liberi di scegliere tra i metodi di fusione che vi ho elencato tra i tre metodi di fusione in base al vostro gusto e all'effetto che volete ottenere bene ora vorrei ridurre lo zoom dell'immagine per vederla di nuovo tutta ho già lo strumento della lente di ingrandimento selezionato e quindi qui sopra posso cliccare adatta allo schermo comando che trovate anche nel menu visualizza visualizza adatta allo schermo e che potete anche attivare con control 0 da tastiera quindi questi possono tutti i metodi per ottenere questo risultato cioè che l'immagine zoom adattandosi alla grandezza del vostro schermo io voglio aggiungere delle crepe qui alle puntine della scritta in maniera tale da rendere l'effetto più realistico ed è questo il motivo per cui avevo scaricato anche quest'altra immagine che vi dicevo l'ho cercata con la parola texture cracks su google immagini quindi mi sono scelto un'immagine prendo e la trascino al di sopra del nostro lavoro siccome era selezionato il livello della sfumatura il livello cracks si è messo per primo va bene perché se invece lo elimino un attimo avessi selezionato prima il livello sfondo trascinandolo esso si sarebbe messo in mezzo tra i due cosa che adesso mi risulterebbe un po' scomoda e quindi lo vado io a rispostare sopra meglio che venga sopra anche questo lo devo decisamente ingrandire quindi che cosa faccio gli do il comando modifica trasformazione libera attivabile anche con la combinazione ctrl t e come vi avevo detto anche prima tengo premuto solo alt perché ho photoshop 2019 avessi photoshop 2018 terrei premuto anche shift per mantenere le proporzioni oltre che ingrandire in maniera speculare quando ho finito di ingrandire clicco la spunta per confermare e ora mi devo scegliere una o due crepe da aggiungere sulla mia immagine quindi non uso tutta la fotografia delle crepe siccome non riesco più a vedere quello che c'è sotto solo momentaneamente abbasso l'opacità ad un 30% circa in maniera tale da vedere quello che c'è sotto poi dopo questo lo annulleremo riporteremo a 100 l'opacità la trovate tra i metodi di diffusione in pratica il metodo di diffusione non va cambiato in questo caso almeno non per ora deve essere normale e dovete tenere selezionata l'immagine crack ovviamente benissimo supponiamo di voler utilizzare per esempio questa grossa crepa per farla partire poi di qua allora io che faccio conto tre pulsanti c'è il lazo clicco col tasto destro prendo strumento lazo quello normale e cerco in maniera manuale il più possibile accurata ma senza star lì ad impazzirci di selezionare la mia crepa così come la voglio poi rappresentare ed è stato utile ovviamente andare ad abbassare l'opacità del livello per ottenere una visuale che mi permetta di vedere anche quello che c'è sotto una volta fatta questa selezione continuando a tenere selezionato questo vado a dare il comando livello nuovo crea livello copiato che è la combinazione ctrl j molto utilizzata per duplicare pixel di un livello ecco a me interessa non solo insegnare le combinazioni di tasti ma anche far capire a che comando corrispondono una volta fatto questo ho un nuovo livello che potremmo rinominare doppio clic qui sopra in crepa 1 invio e che quindi contiene soltanto quella crepa lì infatti tolgo l'occhio dal file originale in maniera tale che si veda che è soltanto che è soltanto quello riporto l'opacità di crepa 1 quindi attenzione ad essere su crepa 1 riporto l'opacità al 100% e poi per fare in modo che si veda prevalentemente la crepa e non le parti chiare che cosa faccio cambio il metodo di fusione in questo caso si può utilizzare o moltiplica che dà questo tipo di effetto oppure colore più scuro che inizialmente sicuramente vi sembrerà più adatto perché fa scomparire tutte le parti esterne rispetto alla crepa in realtà io preferisco utilizzare moltiplica e poi perfezionarlo con qualche affinamento successivo però anche in questo caso voi sentitevi liberi quindi metto moltiplica poi voglio ruotare per riposizionare la mia crepa quindi vado di nuovo al comando ctrl T che era trasformazione libera dal menu modifica ctrl T eventualmente da tastiera questo mi permette intanto di andarla a ruotare non mi metto sulla maniglia ma fuori rispetto alla maniglia e ruoto l'immagine poi di spostarla la prendo diciamo da un suo punto e la vado a spostare la devo anche rimpicciolire in questo caso dovete usare shift se volete mantenere le proporzioni in Photoshop 2018 o più vecchio mentre in Photoshop 2019 non c'è bisogno di premere shift e cerco di far coincidere l'inizio della crepa con la puntina della mia scritta a questo punto confermo cliccando la spunta ma devo fare anche in modo che questi aloni non ci siano più devo fare selezione e deselezione perché mi è scappato un click e che quindi con il lazo ha selezionato un'area devo far sparire questi aloni e di in più devo migliorare un po' qui la connessione tutto questo lo faccio con una maschera di livello c'è qualcosa di simile a questo la posso aggiungere utilizzando questo pulsante che è una scorciatoia oppure con il comando vero e proprio che è livello maschera di livello mostra tutto mostra tutto mi crea una maschera completamente bianca le maschere funzionano in maniera da mascherare cioè nascondere le aree che sono nere nella maschera e mostrare quelle che sono bianche va bene quindi ora se noi vogliamo nascondere una parte di questo dobbiamo operare qui dentro con un pennello che sia più o meno sul nero vado a zoomare questa parte uso la lente di ingrandimento la imposto sul più e clicco ripetutamente per avvicinarmi poi utilizzo lo strumento della manina anche questo i più esperti sapranno che si può utilizzare la tastiera con il pulsante dello spazio tengo premuto per spostare la visuale e poi vado a scegliere lo strumento pennello che è 3 6 9 il nono pulsante quindi lo vado a cliccare eventualmente col destro se vedete una di queste altre per scegliere strumento pennello e impostiamo il nostro pennello dalle opzioni che appaiono solo dopo averlo selezionato lo strumento quindi clicco questo triangolino la dimensione del pennello la facciamo vediamo un pochino la facciamo intorno ai 60 va bene 60 lo scrivo a mano così è più preciso la durezza del pennello la mettiamo a 0 quindi che sia bassa in realtà ho dimenticato che prima di impostare questi valori bisogna andare nei pennelli generali e assicurarsi di avere il pennello tondo morbido se poi dopo averlo selezionato cambiano questi reimpostateli e invece è fondamentale che l'opacità sia impostata al 100 e il flusso sia molto basso diciamo 10% perché il flusso ci permette di dare delle pennellate molto graduali in maniera tale da ottenere il nostro effetto appunto gradualmente e non di botto primo limpio dopo aver scritto 10% e ora devo pennellare nella maschera attenzione che dopo aver aggiunto la maschera voi potete liberamente scegliere di pennellare sul livello o sulla maschera vedete questi angolari quindi attenzione che sia selezionato non il livello bensì la maschera e come colore del pennello quindi cliccate qui oppure qui per scegliere il colore di primo piano come colore del pennello dobbiamo utilizzare il nero il nero è saturazione 0 brightness 0 e quindi gli diamo ok ora con questo pennello nero flusso 10 che quindi in realtà agisce quasi come un grigio cioè agisce in maniera molto morbida nella maschera andiamo a pennellare sulle parti che vogliamo fare scomparire io tengo premuto il pennello e come vedete le cose scompaiono ma in maniera graduale è chiaro che ci perdo un po' di tempo però riesco a fare un lavoro molto più preciso molto più graduale molto più accurato di quello che farei con un pennello al flusso 100% quindi a questo serve usare un flusso un flusso basso per essere accurati va bene quindi vado a migliorare un po' la mia crepa in realtà poi dopo usiamo un trucchettino che fa scomparire gli eventuali aluni che rimangono qui bisogna essere accurati e perderci un po' di tempo poi ora io sto utilizzando il mouse ma in realtà l'ideale sarebbe utilizzare una tavoletta grafica in questa fase che comunque diciamo non tutti hanno soprattutto agli inizi quello è un acquisto che uno di solito fa dopo che ha già acquisito un po' di esperienza quindi continuo a migliorare il mio effetto andando a far sparire un po' di questi aloncini marroncini poi dopo daremo un altro piccolo trucchetto per farli scomparire ancora di più ora aggiungiamo questo effetto quindi è chiaro che io potevo scegliere all'inizio quel metodo di fusione colore più scuro che mi toglieva questo fastidio però vedete come è un po' più finta la crepa rispetto a moltiplica ecco perché preferisco moltiplica e poi faticarci un po' con la maschera per far sparire quello che deve quello che deve sparire il pennello lo vado un po' ad ingrandire adesso facendo quindi un lavoro sicuramente meno accurato però più veloce in maniera tale da andare avanti col tutorial ecco qui poi dopo con quel sistema dello shift che avevo mostrato prima disattivo la maschera per farvi vedere prima e dopo anche qui utilizzerò un po' il pennello perché? perché se vado ad ingrandire la sovrapposizione non è perfetta e quindi con il pennello sulla maschera faccio scomparire quei pezzi di crepa che proprio non dovrebbero esserci e ora la connessione è più precisa il trucco banale è quello di aver usato un flusso al 10% che mi permette di pennellare in maniera graduale utilizzo la mano per spostarmi ma ripeto poi ritorno al pennello si poteva utilizzare anche lo spazio sulla tastiera se io primo spazio sulla tastiera la mano esce da sé quindi per non dover cambiare in continuazione strumento questo molti di voi sicuramente già lo sapevano ok quindi poi zoom indietro facciamo quindi control 0 che visualizza adatta allo schermo ecco se io voglio ancora più perfezionare l'effetto della crepa che ho ottenuto posso fare questa cosa seleziono il livello e ah intanto se vado a cliccare shift nella maschera si disattiva e si riattiva voi guardate qui vedrete che quando la disattiva era così poco fa no prima di aver pennellato con quel pennello a 10% ora riclicco con shift è così quindi già abbiamo di gran lunga migliorato il nostro effetto però per migliorarlo ancora seleziono il livello e gli vado ad aggiungere un livello di regolazione valori tonali lo posso aggiungere sia da questo pulsante sia da qui sotto e poi andare a scegliere valori tonali una volta aggiunto questo nel pannello delle proprietà che si visualizzerà da solo o qui oppure forse a qualcuno di voi si visualizzerà in quest'altra maniera non importa ovunque adesso sia apparso va bene con valori tonali io posso andare a cambiare l'effetto di tutto quello che c'è sotto io vorrei un po' andare a scurire le cose quindi devo muovere questo cursore però andare a scurire le cose volevo dire però che cosa succede che si va a scurire tutta l'immagine non è l'effetto che voglio come si fa per evitare questa cosa bisogna dire al livello valori tonali di agire esclusivamente sul livello crepa 1 e non su tutto lo stack non su tutta la pila di quello che sta sotto è semplicissimo basta cliccare questo pulsante che crea una maschera di ritaglio la maschera di ritaglio si può attivare anche dal livello crea maschera di ritaglio oppure anche da questo pannellino qui e poi c'è scritto ora è fuori schermo ma c'è scritto crea maschera di ritaglio quindi la creo la maschera di ritaglio che cosa fa? infatti mi cambia l'istogramma andrà ad agire solo sul livello immediatamente sottostante l'istogramma ora mi mostra una grafica diversa perché è la grafica dei colori o meglio delle ombre mezzitoni e luci soltanto all'interno della crepa mentre poco fa mi mostrava lo stesso discorso per tutta l'immagine e quindi qui si vede che c'è un po' di di parte diciamo sulle luci che io voglio accentuare perché voglio accentuare? perché il livello crepa utilizza il metodo di fusione moltiplica il metodo di fusione moltiplica che cosa fa? va praticamente ad annullare le luci infatti se io rimetto normale le luci si vedranno vedete? se io metto moltiplica le luci scompaiono allora quegli alloncini che a noi sono rimasti che cosa sono? ritorno un attimo sul normale sono quelle parti del livello della crepa che non sono molto bianche che sono un po' scure beh se io le vado a schiarire quelle scompariranno è un effetto un po' al contrario però se ci ragionate bene è così quindi rimetto moltiplica ritorno sul mio livello valori tonali e schiarisco ulteriormente le luci tenete d'occhio qui che cosa succede? che quando io muovo questo cursore verso sinistra scompaiono un po' gli aloni quando lo muovo verso destra ritornano ovviamente non esagerate se no rischiate di ottenere lo stesso effetto vedi se esagero lo stesso effetto di quando si metteva colore più scuro e allora tanto valeva non fare tanta fatica no? quindi fate qualcosa di molto di molto graduale va bene? il prima e dopo lo potete vedere togliendo o mettendo questo occhio forse anche un po' di più in avanti si può fare ecco qua ovviamente lo tenete acceso posso chiudere il pannello proprietà da qui sopra ovviamente questo stesso ragionamento va ripetuto prendendo altre porzioni di crepa dal file originale e quindi sempre con ctrl j ripetendo quella cosa riduplicandole agli altri quattro angoli per dare magari anche altrove non solo agli angoli dove vedete queste puntine per dare ancora di più l'effetto di una scritta che sia scolpita nella pietra grazie per avermi seguito se volete approfondire ci sono altri miei tutorial online ma soprattutto se volete contattarmi per iscrivervi al mio corso sono a Barletta il link in descrizione del video grazie a risentirci